28esima puntata di Pordenone Sport, qui ci sono tante belle notizie per quanto riguarda la destra tagliamento e anche la sinistra perché in promozione già si sta festeggiando il salto del Flaibano, ma quella era una cosa ormai scontata. Parliamo però del Pordenone e dell'altisonante vittoria dei Neroverdi sulla San Benedettese, un risultato importante che rilancia il Pordenone in zona Pleo. Sì, roboante vittoria direi dei Ramarri domenica al Bottecchia contro la seconda della classe, una squadra che era temuta dal mister da Rossitto, però i Ramarri hanno sfoderato una prova di carattere, hanno portato a casa un risultato pieno e importante che li rilancia in ottica playoff nonostante debbano osservare un turno di riposo. Volevo fare un'osservazione, onore ai ragazzi perché veramente hanno interpretato la gara nel migliore dei modi, ci hanno creduto dal primo all'ultimo minuto, però bisogna anche fare un passo indietro e dare dei meriti alla società che è saputa ritornare in se stessa e quindi chiamare il medico di famiglia così come l'abbiamo soprannominato, Fabio Rossitto, il quale ha portato veramente benzina non solo nella testa ma anche nelle gambe di questi ragazzi e adesso il futuro è un po' più roseo. Ecco, secondo te se la scelta di Rossitto non si fosse fatta solamente così a campionato in corso, ma prima le cose sarebbero diverse adesso per la società? Le cose sarebbero diverse, è vero, però c'è da dire anche che il Pordenone di Rossitto potrebbe avere 4-6 punti in più perché alcuni punti sono stati persi, vedi, con la Triestina e con il Mestre negli extra time, quindi alla fine il cambiamento ha portato dei miglioramenti. Peccato solo che vuoi un po' la sfortuna, vuoi un po' gli infortuni, non si è riusciti a capitalizzare in questo mese tutto quello che si era dovuto. L'importante è che adesso il Pordenone è in marcia, ha un berrettono in più, ha un berrettono in più perché vedrete che Berrettoni quando è in forma, ieri addirittura ho visto sulla stampa qualcuno ha anche messo 10 in pagella, voglio dire, ha illuminato il gioco del Pordenone. Zammarini autore di una tripletta, la sua prima tripletta nella sua carriera, però con tre assist di berrettoni, non lo dimentichiamo. Ecco, poi c'è stata l'espluat anche del Pisano, del bomber Pisano, una tripletta importante questa. Sì, una tripletta importante perché Zammarini è un giocatore proprietà Pisa, è vero, l'ha ribadito anche Mauro Lovisa ieri in sala stampa dove già sta lavorando in ottica futura per un riscatto, per una riconferma. È un giocatore che non scopriamo noi, è un giocatore di gamba, è un giocatore che fa anche il reparto da solo, ben voluto vedo dai suoi compagni di reparto e soprattutto dal mister che gli ha dato fiducia e il ragazzo lo sta ripagando a pieno. Ecco, anche Rossito ci ha messo del suo per questa rinascita del Pordenone, come dicevi anche tu prima. Sì, ripeto, Rossito secondo me ha portato veramente benzina a questi ragazzi, prima nella testa e adesso anche nelle gambe perché il Pordenone oggi fisicamente sta bene in forma e c'è un'altra osservazione da fare che oggi ha l'intero organico a disposizione e non dimentichiamo che il Pordenone ai nastri di partenza era considerata la seconda terza forza del campionato. Ecco, adesso ci sarà una pausa per il Pordenone, poi nuovo impegno importante. Sì, di nuovo in casa con il Renate. Speriamo non sia decisiva ai fini playoff, ma credo che il Popolo Neroverde dopo questa roboante vittoria con la San Benedettese che sussegue a quella altrettanto roboante con la Reggiana, credo che comunque verrà a riempire gli spalti ed essere il dodicesimo uomo in campo, determinante proprio affinché questi playoff si possano giocare con tranquillità. Ecco, scendiamo di categoria, andiamo in serie D e qui anche una bellissima notizia perché è aspettata anche questa notizia da tutto il mondo dilettantistico del Friuli Venezia Giulia perché il Tamai ha ottenuto un brillante successo che potrebbe aprire le porte della salvezza. Eh sì, vincere al campo d'Arsego non è facile, le furie hanno fatto le furie e il bomber, il capitano, McCann ci ha messo del suo regalando questa vittoria al novantesimo per 2 a 1 proprio sul campo d'Arsego e rilancia le ambizioni del Tamai. A due giornate dalla fine ci si può ancora credere a una salvezza diretta. Ecco, e questo, come dicevo, lascia aperte anche diverse porte nel mondo dilettantistico del Friuli Venezia Giulia, però prima di parlare di questo io vorrei soffermarmi anche sull'impresa del Chions in eccellenza, no? Questa è stata una chicca veramente che il presidente Bressan ha portato, diciamo, in tutta la destra tagliamento. Hai detto bene, Naz, perché questa è una vittoria costruita a tavolino. Il Chions è una società gestita a regola d'arte, con un presidente che ha voluto investire, costruire una rosa importante, dando anche una qualità aziendale alla società. Con la vittoria di ieri, meritatamente, loro salgono in Serie D, conquistata veramente con merito e sono sicuro che anche l'anno prossimo sapranno allestire una rosa importante che comunque potrà onorare la categoria. Per la prima volta, ricordiamo, il Chions salta in Serie D, un traguardo storico per la società Giallo-Blu. Scendendo e andando in promozione, tutti contenti per la vittoria del Tamai, perché questo dà la possibilità o al Fiume Veneto o alla San Vietese, per quanto riguarda il Girone A di promozione, di avere delle chance in più, no? Sì, però io dico dà più possibilità al Fiume, considerato che ieri la San Vietese ha perso un importante derby in quello di Cordova, dove il Fiume, approfittando della vittoria col Corva, ha allungato le distanze, per cui credo che sia più il Fiume che vada a giocarsi questa opportunità. Ecco, la SPAL, io ero lì proprio a vedere la partita, la SPAL era entusiasta di questo 5-1 ottenuto proprio sul campo, è netto anche, è stata una vittoria netta da parte della società, del gruppo guidato da Paissang. Un 5-1 che mette forse in risalto anche le debolezze della San Vietese, perché la San Vietese, ricordiamo, era riuscito a battere la settimana prima il Flaibano e dopo, una settimana dopo, ha preso 5 sberle dalla SPAL. Non dobbiamo dimenticare che però la San Vietese ha fatto un campionato oltre le aspettative, oggi è terza con 52 punti, io non avrei mai pronosticato la San Vietese, è terza in classifica 52 punti. Qui va il merito all'allenatore Rossi, il merito ai ragazzi che lui mette in campo. Cosa possiamo dire? Secondo me va comunque onorato quello che ha fatto. Ecco, adesso io farei andare l'intervista che ho realizzato con Claudio Schiavo, che è il direttore sportivo del Torre, un'intervista che parla non solo del successo ottenuto ai danni del Sant'Antonio e Porcia per 1-0, ma fa anche una panoramica su quello che potrebbe accadere. Molte cose, secondo Claudio Schiavo, sono già definite in questo raggruppamento. Ascoltiamolo. Tu sei reduce, diciamo, dal successo esterno con il Porcia e quindi altri tre punti però che non hanno significato. Sì, diciamo che nel nostro campionato si è deciso tutto, praticamente tutto. Nel senso che si sa già chi ha vinto il campionato che è il Freibano, si sa già chi andrà a fare il play-out che sono tre squadre, San Quirino, Porcia e Cova, anche se le ultime due che ho citato sono le favorite per fare la sfida praticida fra di loro e per i play-off mi pare che devo non solo stabilire chi è la seconda in classifica tra Fiume e San Vitesse che sarà quella che di fatto, vedendo anche il campionato di sedi, sarà quella che andrà su in eccellenza. Quindi non si disputeranno i play-off? Sì, o si disputeranno per la quinta, sesta posizione, settima, quelle partite che non servono. Quindi un campionato che si è concluso praticamente, dici tu, in anticipo? Sì, si è concluso in anticipo, però queste ultime partite daranno modo a tutte le squadre di provare anche dei ragazzi che hanno avuto meno spazio oppure a quei ragazzi che devono anche dimostrare di meritare di poter stare in qualche società, in qualche squadra. Tu sei soddisfatto per come sono andate le cose per il Torre oppure avresti ambito a qualcosa di più? Allora, diciamo che siamo soddisfatti perché comunque nell'ultimo periodo abbiamo fatto quattro vettorie di fila quindi abbiamo cambiato un po' il trend. Certo che potevamo fare qualcosa di più, potevamo fare qualcosa di più a livello di mentalità, di attenzione, però sapevamo anche che era un anno zero per noi nel senso che avevamo cambiato parecchio, è andato via qualche senatore importante che ci dava anche qualche mentalità e abbiamo inserito dei ragazzi nuovi, diciamo che ci sono contento a metà. A metà, perché magari almeno... Come la nostra classifica, come la nostra classifica. A metà. Magari i play-off, anche se come in questo caso non servirebbero a nulla, però è solo per una questione di prestigio, magari se ci fosse stato il Torre tu saresti stato un attimino più contento. Diciamo che negli ultimi anni abbiamo dimostrato di poter stare lassù, quindi sarebbe stato bello essere lì a giocarcela, anche perché comunque è un obiettivo secondo me alla nostra portata, visto come abbiamo incontrato tutte le squadre, però abbiamo vissuto troppo di alti e bassi e quindi diciamo che alla fine la classifica rispecchia quello che è stata la nostra stagione. Come mai il Flaibano ha dominato così, diciamo in maniera direi assoluta questo campionato di promozione, perché? Il Flaibano ha dominato perché ha trovato l'alchimia giusta tra un mister, una società presentissima, un mister bravissimo e un gruppo di giovani vogliosi di mettersi in mostra e anche di grossa qualità, assieme a due o tre vecchi che comunque non guastano mai. Ha fatto un campionato importantissimo a livello di risultati e di prestazioni, forse qualcuna delle squadre del Girone A ha cercato la stagione, più bella di Casastre, che secondo me come potenziale all'inizio era forse una delle squadre più forti, però l'ha meritato ampiamente e quindi bisogna fargli un bravo al Flaibano e secondo me hanno già una buona base anche per il prossimo anno. Ecco, il fiume Veneto invece che sembrava dovesse essere la prima donna in questo Girone A, ha faticato un po' però è lì al secondo posto. Sì, il fiume rischia di andare su secondo me come miglior seconda perché le potenzialità ce le ha, una squadra di ottimo livello, quest'anno non ha avuto il Paciulli che si è ripetuto ai stessi livelli dell'anno passato, probabilmente la paternità è appesato, magari ha avuto qualche notte insonne con il picco che piangeva, però è una squadra sicuramente che gli mancava qualcosa però, davanti fortissimi, però forse in qualche reparto gli mancava qualcosa. Ecco, la San Vitesse che forse è stata la sorpresa di questo torneo, alterna risultati veramente importanti come il successo tenuto sul Flaibano a risultati come quello di Cordovado, una batosta per 5 a 1, insomma come mai? Qual è la cosa che ha fatto scattare questo tipo di torneo per i biancorossi? I biancorossi secondo me hanno pagato domenica che hanno perso 5 a 1 il fatto che comunque il campionato non aveva più grossi obiettivi, hanno già raggiunto probabilmente il massimo essendo una squadra giovane, però hanno fatto una stagione importantissima perché comunque si sono ripetuti, come l'anno scorso, che anzi si sono migliorati e questo va dato atto che la San Vitesse con i giovani ha dato fiducia e questi li hanno ripagati, quindi secondo me ha fatto un'ottima stagione, a presidere come chiuderanno non devo assolutamente buttare via quelli buoni che hanno fatto quest'anno. Ecco, nella parte bassa della classifica, tu l'hai già detto, anche lì è tutto deciso, però ci sono delle squadre che avrebbero potuto fare qualcosina di più come il Sant'Antonio Porcia che voi avete battuto appunto a domenica. Il Sant'Antonio Porcia secondo me ha vissuto un anno di difficoltà dove anche loro avendo rinnovato tanto non sono riusciti a riprendere il filo conduttore e la grida che comunque il loro mister gli dà. Hanno pagato tantissimo, una serie di risultati mi parlo 11 o 12 che hanno fatto negativi e quello alla fine ha pesato anche sul morale, basta vedere in Serie A che c'è l'Uinese che ha 11 sconfitte in fila, probabilmente non riescono, la vivono sempre come subire un gol li abbatte più del dovuto. Però è una squadra che secondo me ai play out può dire la sua perché ha qualche giocatore di qualità, vedi Vrizze, vedi Zambon, vedi Corazza che secondo me possono in quelle sfide lì deciderla. Ecco quindi diciamo hai già fatto il tuo pronostico per i play out? No, non l'ho fatto, bisogna vedere se ci arrivano perché comunque so che hanno l'ultima partita lo scontro col Sanguerino che potrebbe anche ribaltare in caso di una concomitanza di risultati potrebbe anche ribaltare la griglia dei play out, quindi non più come adesso Corva-Porcia ma magari Corva-Sanguerino o chissà Porcia-Sanguerino, ma mi parlo più che se la giochi tra Porcia e San Quirino il posto mancante per la sfida play out. Ascoltiamo anche, diciamo così, una dichiarazione da parte del mister del Sant'Antonio-Porcia attita da Pieve dopo la sconfitta e cosa l'aspetta, anche questo dopo ne parleremo anche un attimo insieme, cosa aspetta questa società in questa coda di campionato? Come sapete ieri la partita Porcia-Torre è finita 0-1 con la vittoria del Torre. Diciamo che è stata una partita dei due volti, un discreto primo tempo da parte del Porcia che ha avuto un po' il predominio della palla e quindi ha creato qualcosa per poter anche andare in vantaggio. Di riflesso c'è stato un secondo tempo un po' meno brillante da parte del Porcia e più da parte del Torre. In una delle poche situazioni che si sono create si sono trovati la possibilità di andare in vantaggio. Noi abbiamo avuto l'occasione poi per riprendere la partita, ma diciamo che è stato bravo anche il suo portiere nel tiro ravvicinato del 2000 a Crico. Tutto sommato è un risultato che magari ci penalizza, nel senso che magari ci stava il pareggio che per noi sarebbe stato comunque un risultato positivo che ci sarebbe servito anche a livello morale. Da qui alla fine mancano tre partite e dovremmo cercare di tirar fuori i più punti possibili per cercare di ottenere i play-out e poi giocarsela lì. Per quanto riguarda i migliori, da parte nostra cosa posso dire? Non ci sono stati giocatori che si sono eccessi. Tutti hanno avuto uno standard medio e quindi non ci sono migliori in campo. Abbiamo ascoltato Tita da Pieve un po' amareggiato per questa sconfitta. Il Sant'Antonio Porcia è rimasto al terz'ultimo posto e si prospettano dei play-out abbastanza così ormai scontati con il Corva. Diciamo che la classifica si è un po' allineata per cui io credo che la salvezza per l'SA Porcia debba passare attraverso i play-out. Io credo che a noi adesso ci aspettano tre finali. Anzi, faccio un passo indietro perché anche Allegri aveva dichiarato ieri che contro il Napoli avrebbe giocato una finale e purtroppo l'ha persa. Queste sono cose che succedono, però aspettiamo di vedere cosa succederà a fine campionato. Per cui noi dobbiamo un attimino rimboccarci le maniche perché non ci aspettavamo a inizio anno una difficile classifica come siamo a tre giornate dalla fine. Confidiamo nel lavoro del mister, noi lo conosciamo bene, sappiamo il suo carisma. deve assolutamente riuscire a portarci a conquistare questi benedetti play-out perché la salvezza purtroppo deve passare da lì. Per chiudere facciamo due parole anche sulla testa del campionato. Ormai la promozione del Flaibano, scontatissima tra l'altro, è stata raggiunta con tre giornate d'anticipo. Adesso c'è una bella lotta tra Fiume e Bannia, la favorita, e la San Vitesse che invece si è persa un pochino nelle ultime battute. Sì, però cinque punti, tre partite alla fine cominciano ad essere importanti e difficili da recuperare, per cui io credo che alla fine la spunti il fiume. Volevo segnalare un'ultima cosa prima di chiudere il servizio. C'è un'altra squadra che ieri ha altrettanto vinto il campionato, che è la nuova Sacilese, che raggiunge la seconda promozione consecutiva da Proda in prima categoria dopo la rifondazione. Lanciamo anche un piccolo occhio alla terza, dove la Purillese ha una giornata dal termine può pescare la seconda categoria e forse lo meriterebbe anche lei. La quattro giorni di Brugnere raddoppia le competizioni di notte. Il 16 e il 17 giugno si correrà in notturna e non ci sarà più la corsa in linea ciclistica che arrivava a Caneva per poi tornare nelle cittadine del mobile. Un programma in ogni caso particolarmente intenso, quello messo a punto dal loro gildo. Si comincerà giovedì 14 giugno con la gara podistica non competitiva giunta alla terza edizione messa a punto dall'Edil Market Sandrin di 6 e 10 chilometri. Il giorno dopo, venerdì 15, spazio agli sprint di sera, dedicati a Evelino Spinato con tutte le categorie giovanile, dai giovanissimi agli juniores. Sabato è in programma il clou della manifestazione, con la competizione nazionale in notturna Denis Zanette e Daniele Del Ben. Saranno 150 gli under 23 e gli elite presenti alla via provenienti da tutta Italia e dall'estero. L'epilogo è fissato per domenica 17. Già di prima mattina ci saranno le competizioni di patinaggio corsa allestite dal new roller Porcia. Nel pomeriggio entreranno di scena ancora i ciclisti juniores con il Memorial Elio Costalunga. In serata poi verrà proposto il Gianni Biz nella nuova versione notturna. Alle migliaia di persone presenti alla quattro giorni non verranno proposte solamente competizioni sportive, ma potranno usufruire anche degli stand enogastronomici e soprattutto di esibizioni musicali. Nel corso del weekend verranno proposta eppure la sfilata degli alpini, assieme all'associazione di Brugnera, il corteo delle vespe con il gran finale di domenica notte di fronte alla pasticceria centrale dedicato alla selezione di Miss Italia 2018. Ci troviamo a Brugnera, loro Gildo, sede organizzativa della quattro giorni di Brugnera che si disputerà dal 14 al 17 giugno. Forse è un po' prematuro parlare di questa manifestazione, però Gildo so che ci sono diverse novità per questa manifestazione. Sì, quest'anno siamo già pronti per il programma, si parte da 14 al 17, la prima giornata di 14 è giovedì sera, facciamo una corsa a piedi con l'atletica di Marco Sandrin, che è la società che guarda le corsa a piedi. L'anno scorso abbiamo avuto un gran bel evento di partecipazione di persone perché sono state unite tutte le famiglie, dei bambini e i grandi. Pertanto questo vuol dire unire tutto il paese. Ecco, non solo Podismo perché è organizzato da Sandrin che ormai è diventato uno degli organizzatori di questa manifestazione. Sì, poi passiamo il giorno di venerdì, il giorno 15, qui ricordiamo uno dei fondatori della società civista di Fondana Feda, Evelino Spinato, e organizziamo la notturna per tutte le categorie di giovanissimi, dal G1 fino a Juniores. Sarà una bella serata come quella dell'anno scorso, è stata una grande partecipazione, abbiamo avuto quasi 350 iscritti e partecipanti e diciamo che è stata una bella manifestazione che ha coinvolto tutto il paese. Poi ci sarà la notturna di sabato che diciamo che è il clou di queste quattro giorni. Sì, la notturna è già una classica che l'abbiamo già, diciamo, collaudata in tanti anni. Niente, qui abbiamo una corsa nazionale, ricordiamo Danny Zanetti del Ben, riservata la categoria Under Elite, su un circuito di 37 giri, di 2,8 km. Abbiamo già invitato le migliori squadre d'Italia, con qualche squadra straniera, e penso di arrivare sui 150 partecipanti. L'anno scorso abbiamo avuto i 185, su una notturna è già un notevole numero. Quest'anno dobbiamo limitarci perché l'UCI ha deciso di far partecipare non più di 176 partecipanti per quanto riguarda la normativa. La grossa novità però sarà quella di domenica. Non ci sarà più la gara in linea che da Brugnera va a Caneva per poi tornare nel centro del mobile, ma una nuova notturna. Come mai? Ma la notturna l'ho decisa perché? Perché dobbiamo coinvolgere solo il paese. L'anno scorso abbiamo avuto un grande, immenso dispendio di energie per quanto riguarda la sicurezza e per quanto riguarda soprattutto il chilometraggio dei ciclisti. Abbiamo avuto problematiche nella sicurezza e quest'anno abbiamo deciso di fare all'interno del nostro paese perché così abbiamo più, anche perché c'è più partecipazione di persone. Io voglio non solo l'atteggiamento per quanto riguarda l'agonismo, ma voglio anche la precisione di tante persone e soprattutto essere sempre qui sul posto perché l'anno scorso non c'erano tante persone. Ecco, raccontaci un po' questa nuova notturna. Sarà un po' il clone del giorno prima? Sì, diciamo lo stesso percorso, i stessi giri. Magari ci sarà una maglia che verrà data al vincitore delle due notturne come miglior piazzamento. Ecco, quindi atletica, ciclismo, addirittura patinaggio perché nella giornata di domenica mattina ci saranno anche i patinatori di Porcia. Allora, la domenica è un po' intensa. Cominciamo con la New Roller Porcia al mattino a 9 e mezza che faranno, diciamo, delle attività di velocità e si andrà fino a mezzogiorno. Poi, la novità di quest'anno, c'è la gara di Uniorres nel pomeriggio alle 15 e 15. E qui perché? Stiamo parlando di ciclismo. Di ciclismo. La gara di Uniorres alle 15 e 20 in memoria di Elio Costa Lunga, un mio grandissimo amico scomparso due anni fa. e qui c'è una data, diciamo, abbiamo creato questa manifestazione perché c'è il campionato italiano a Loria e pertanto c'è una grande partecipazione perché tutti gli altri saranno qui da me. Quindi, diciamo, ma io so che non solo sport, non solo ciclismo, non solo patinaggio, ma podismo, ma anche tante altre cose. Perché? Perché le famiglie dovranno venire in questi quattro giorni a Brugnere e divertirsi. Allora, se si vive solo di ciclismo abbiamo sempre le solite notte persone. Abbiamo sempre le solite notte del roller, abbiamo sempre le solite persone che vengono a piedi. Bisogna tirare fuori quello che piace anche la musica. Pertanto noi abbiamo da giovedì a venerdì, sabato e domenica, abbiamo dei compenzi musicali. Soprattutto abbiamo una sfilata ai Miss Italia domenica sera come conclusione. Questo è un sinonimo, diciamo, di unione di tutte queste cose che danno un'importanza veramente alla manifestazione. Ci sarà sempre il mercatino che coinvolgerà queste quattro giornate? No, ci sono tanti stand endorastronomici perché la gente piace mangiare e divertirsi. Pertanto è una delle cose che l'italiano piace di più, è mangiare. Ecco, ci sarà sempre la diretta televisiva? Sì, abbiamo due dirette televisive. La diretta al sabato su Telechiara a Canale 14, sono tre ore e mezza di diretta, e domenica sera alle otto e un quarto, sempre due ore e mezza di diretta. Supernale 14 del ciclismo. Ecco, nelle passate edizioni ci sono stati tantissimi spettatori durante la notturna. Quest'anno prevedi altrettante persone nelle due serate? Ma quest'anno, diciamo, abbiamo la novità come l'anno scorso, facciamo una gran sfilata di tutte le associazioni del luogo e coinvolgendo anche i più comuni del Trevigiano e del Polenonese. Cosa facciamo a venire? Quest'anno abbiamo la sfilata degli alpini, abbiamo la sfilata per quanto riguarda di carrozze antiche, di vespe, abbiamo la sfilata di tante altre, della protezione civile, per quanto riguarda tutti gli enti dei comuni, che ho chiamato l'anno scorso, erano 16 comuni che sfilavano. Abbiamo, diciamo, tutte, poi abbiamo coinvolto le scuole. Le scuole quest'anno abbiamo coinvolto le medie, le superiori e le elementari con un premio, la migliore classe classificata, con il loro compito che verranno fatto e verrà tutto quanto premiato in diretta televisiva. A questo punto ricordiamo l'appuntamento ai nostri telespettatori. Dal 14 al 17 giugno ci saranno ancora tante cose da fare dal punto di vista organizzativo. Ma sicuramente qui dobbiamo soprattutto la sicurezza, perché l'anno scorso abbiamo avuto dei piccoli incidenti per quanto riguarda le gare, ma comunque è tutto sotto controllo. Abbiamo una direzione corsa che non è da poco, collegata da Roberto Berto e tutti gli altri direttori di corsa. Pertanto siamo tutti in sicurezza. Poi diciamo che nel ciclismo le persone sono tutte quante abbastanza corrette.